ragazzi buongiorno buongiorno siamo partiti da dentro la macchina ma allora abbiamo questo bellissimo ragazzo che ci siamo trovati dal nulla oggi ma è una cosa stata veramente stranissima e lui è venuto a trovarmi perché lui conosce uno dei proprietari di di celeste map il mitico bruno e lui è di rosolini quindi dov'è l'azienda celeste map e mi fa gerry sono venuto qua perché ho parlato ieri sera con bruno e tu vai da gerry a provare il pedasprint però tu sapevi già cosa che era ovviamente le anni che conosci loro quindi perché lui abita qui a melson quindi melson paese vicino a gorgonzola ora ragazzi che cosa facciamo noi lo montiamo a luigi il pedasprint è certo che si hai voglia poi si viene da bruno ovviamente allora adesso facciamo tutto sinistra e ti faccio partire metti la seconda ecco già si sente sinistra si e destra e siamo in comfort puoi accendere anche il clima se vuoi così vedi anche la differenza col clima come fa che non lo senti più ma io ho una grida un po' accelerata però senti subito la differenza adesso guardiamo la prima destra perfetto e adesso qua luigi andiamo a destra così te lo spengo visto spento sport così e sport potremmo andare anche a sinistra giù di là che abbiamo il reddilineo e ti faccio fare sta strada qua così non abbiamo autobelux non abbiamo DOS autostrada evitiamo di fare l'autostrada esattamente capisci a me luigi capisci a me facciamo le mie stradine per piacere ho già visto la guida tu già inquadrato ecco l'ho già inquadrato io vedi terza ecco ti devi abituare a pedalci all'altore che adesso è molto più veloce eh si infatti è molto veloce il pedale ah ecco eh vedi però è una roba che ti abitui poi strada facendo luigi tu hai cinque sei marce qua perfetto eh su luigi facciamo una bella roba torniamo indietro ok e te la faccio provare nell'ultimo settaggio ok così è spento visto come ha fatto minchia eh minchia come hai detto minchia ecco bravo minchia eh questo è race eh e gli siamo fatto la macchina si ed ero lì hanno fatto lo sbalzo in avanti poi ti abito in quel pedalo c'è da rotto non ti preoccupare ragazzi race cosa fa adesso il nostro amico luigi spegne il telefono lo mette qua lui rimane sempre settato sempre settato l'autostrada era peggio luigi l'autostrada era peggio fidati di me se vuoi andiamo a destra fa una di terza sono di terza si così vedi non ti serve neanche più mettere la seconda no per prendere i giri prende subito e se subito ma sta macchina cammina ragazzo stai tutta a sinistra mi sta facendo ubriacare guardalo guardalo la sta testando la sta provando destra ti ho detto che sono amico di Bruno tu sei amico di Bruno ma Bruno guida meglio di me Bruno non l'ho mai visto guidare l'ho visto guidare Alessandro che andava tranquillo Bruno no Bruno mi guida molto meglio di me ci fidiamo si si ci fidiamo allora luigi ti faccio la domanda che faccio a tutti consigli il pedasprint? yes ragazzi ve lo dico anche in inglese in francese in tutte le lingue del mondo si ragazzi c'è la differenza è abissale si 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 a voglia raga poi per uno come me ci voleva guarda qui sta la partenza ci voleva allora luigi mo ti dico un'altra cosa l'8 di giugno siamo in inaugurazione c'è anche qua bruno si alessandro e tutti i ragazzi che conosci tutti si siamo tutti qua se vuoi venite a fare un giro dai grande ragazzi grande grande ragazzi l'8 giugno siamo in inaugurazione il top del top già arriva da sprint via trieste 105 gorgonzola milano yes luigi io è andato bene è andato su orca miseria dammi la mano grande 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 è stata non era predisposta oggi questo montaggio assolutamente no non era in previsione però sono le cose sono le cose belle della giornata no è una figata io dico sempre una figata perché io sono milanese è una figata lui dice minchia a posto siamo in race adesso avanti la dobbiamo girare qua però fa niente si dobbiamo girare qua esatto adesso qua giriamo a destra e siamo a posto si torniamo indietro abili e arbolati perfetto ragazzi iscrivetevi al canale jerry pedrasprint showroom pedrasprint su instagram tiktok e facebook siamo ovunque luigi io ti ringrazio gentilissimo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao